Buon pomeriggio, allora com'è andata? Per noi bene. I ragazzi sono soddisfatti? Sì, 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 sono sempre più giovani. E vedevo un pochino... E vabbè, loro ricordano il primo posto di ieri, quindi sono rimasti un po' delussi. Infatti, infatti. Però non siamo contentissimi. Allora possiamo dire che è andato tutto bene, è andato a confiere. Sì, sì, facciamo la media tra la classifica di ieri e di oggi, quindi comunque vada, siamo piazzati benissimo. Perfetto, grazie. Grazie.